Sono già quasi 10.000 i pettorali prenotati dai runner per la 49esima Roma-Ostia Half Marathon. In programma domenica 3 marzo la partenza sarà in piazzale Pierluigi Nervi di fronte al Palaeur con arrivo alla Rotonda di Ostia. La gara è organizzata da GSB Run in partnership con RCS Sport Events sotto legge della World Athletics e della FIDAL con il patrocinio di Roma Capitale e di Regione Lazio. Ai nastri di partenza anche la vicepresidente vicaria del CONI, Silvia Salis, che prenderà parte alla gara, comunicano gli organizzatori. Si attesta dunque un trend in forte crescita con un'interessante presenza di atleti stranieri oltre il 20% degli iscritti e delle iscrizioni al femminile, il 25%, percentuale in netta crescita rispetto agli anni precedenti. È inoltre ancora possibile iscriversi alla gara a fine esaurimento pettorali sul sito www.romaostia.it, donando 5 euro ad una delle ONP, organizzazioni no profit, fra Common Italia, Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up, nell'ambito dell'iniziativa collegata al Mese del Cuore che coincide con questo febbraio. Si tornerà a correre sul veloce percorso di 21 chilometri rivisto nella parte iniziale qualche anno fa un tracciato che rispecchia le caratteristiche tecniche e performanti che da sempre appartengono al DNA di questa gara.